Sarà una Befana 3.0 senza l'arogo che accompagna tradizionalmente il 6 gennaio per rispetto dell'ambiente e della qualità dell'aria, ma in Prato della Valle conto alla rovescia per la grande festa che partirà sfidando le previsioni di pioggia alle 15 di domani. Sarà un sabato quindi terremo insieme il mercato, la pista di pattinaggio e tutta la parte dedicata alla Befana anche sfruttando la parte del sagrato di Santa Giustina. Per tenere tutto insieme chiudiamo la circolazione del traffico di Prato della Valle così anche per motivi di sicurezza tutta l'aria sarà fruibile. Quindi dalle 13.30 alle 18 le vie di accesso al Prato e le vie soprattutto che attraversano il Prato saranno chiuse. Impossibile accedere al parco di Piazza Rabin dopo le 13 ricorda l'assessore Bressa che invita chi può utilizzare i mezzi pubblici tram e bus. Il tempo incerto frena l'arrivo in Prato della grande marinetta di Cartapesta che aveva fatto la gioia dei più piccoli un anno fa per il resto tutto sarà come da programma. Il momento più atteso sarà nel corso della festa nel pomeriggio che inizierà alle 15 e si concluderà alle 17. Circa a metà arriveranno i vigili del fuoco che sono molto attesi soprattutto dai bambini con uno spettacolo inedito che farà volteggiare in aria la Befana ma non aggiungo dettagli perché voglio lasciare la sorpresa. Prato della Valle resta la cornice degli eventi di piazza per la città. I grandi eventi che richiamano migliaia di persone hanno questa come sede naturale, è una sede a cui abbiamo affiancato anche quella di Piazza Insurrezione solo per l'evento più raccolto di Capodanno con il concerto musicale, evento invernale che quindi ha delle caratteristiche diverse però la fortuna di Padova è di avere piazze importanti a partire proprio dal Prato che sono il luogo ideale per fare grandi radoni con le persone.